Per cui insieme a questi giovani, come ha detto Pino, partono anche molte donne e molti bambini che sono annegati anche in mare. Quindi è un'equazione casinina un po' troppo semplice, dire rimani lì e combatti nella tua patria, che è talmente ampia la zona dell'Africa e presenta delle differenziazioni anche tra etnie e tra tribù molto complesse da mettere insieme. Questo però non vuol dire che dobbiamo permettere un flusso di questo tipo per il semplice fatto che poi non riesci a gestirlo sul territorio e i problemi della sicurezza sono reali e ci sono, Casalino. Se lo prendiamo da questo punto di vista è ovvio che una considerazione banale è quella di dire che queste persone preferiscono affrontare il rischio della morte in mare piuttosto che tutti i rischi in loro paese, guerre, dittature o altro. Però credo sia un discorso comunque semplice, nel senso che se ricordiamo anche altre tragedie umanitarie, pensiamo alla Siria, le centinaia di migliaia di rifugiati che sono scappate dalla Siria, poi ne abbiamo una parte che sono arrivate anche da noi in stazione centrale, ma a parte questo centinaia di migliaia sono nei paesi limitrofi, Libano, Giordano e altri dove ci sono dei campi profughi. Cosa sto dicendo? Sto dicendo, rifacendomi a una delle proposte della mozione del Movimento 5 Stelle in Parlamento, da tempo però sarebbe ora di cominciare a farlo, siamo in ritardo proprio sulla tragedia che ormai diversi, come dire, osservatori e commentatori, ma anche credo i nostri servizi segreti o insomma anche il buonsenso ci possono indicare dalla tragedia, da tutto ciò che sta avendo in Libia, sono previsti centinaia di migliaia di persone nel arrivo sulle nostre coste, vedremo. Ma insomma sarebbe il caso di muoversi per creare, ripeto, un'agenzia internazionale che possa gestire i flussi di persone sulle coste di questi paesi di Vieraschi, per evitare proprio che affrontino comunque un rischio di morte in mare, ma che nello stesso tempo siano tutelate, probabilmente in campi profughi di rifugiati, dove è possibile farlo in Nordafrica. Questa è la linea sostanzialmente espressa dal Movimento 5 Stelle in Parlamento. C'è un messaggio, ad esempio, ma sotto la stazione centrale quanti profughi possono stare? Sotto? Non ho capito. Quanti profughi si può, anche con questo ambulatorio di cui lei mi sta parlando, di questo presidio, quanti profughi possono essere visitati rispetto a un potenziamento magari di un presidio? Allora... In più. La stazione che chiedeva la riapertura di quell'ambulatorio, il Movimento 5 Stelle ha votato a favore di quella mozione, che però è stata bocciata dal Consiglio regionale. Quindi, come dire, sostanzialmente c'è qualcuno che pensa le opposizioni del Consiglio regionale che ci voleva comunque un maggior presidio in stazione centrale, anche perché poi, vorrei ricordare, il Comune di Milano è stato lasciato solo dal suo governo. Questa è la cosa un po'... Beh, insomma, in realtà neanche tanto assurda, se la si vede nell'ottica di quello che poi è successo, Pisapia, apri, chiudo parentesi, non si è recandidato, qualcuno dice anche proprio in polemica con i vertici nazionali, con Renzi e quant'altro. Beh, insomma, vediamo come il governo, in cui c'è anche un ministro dell'interno che si chiama Alfano, ha lasciato solo il Comune di Milano. Caserino, la devo solo interrompere perché è una pubblicità che è tassativa, la faccio riportare esattamente da qua, rientro, scusi, a tra poco. Stavo appunto dicendo che il Comune di Milano è stato lasciato solo dal governo Renzi, dal ministro Alfano, va caduto gestire la tragedia appunto dei profughi siriani che si sono ammassati per un anno e mezzo nella stazione centrale, credo che siamo oltre 55 mila, il Comune di Milano appunto ha dovuto sopperire da solo a questa situazione che evidentemente era ed è una emergenza nazionale, aveva più volte chiesto supporto e aiuto al governo che o non è arrivato o non è arrivato assolutamente nella misura che era necessaria. Io volevo ricordare questo fatto perché credo che sia anche questo molto grave. Gli enti locali sono stati lasciati e sono lasciati da soli su questa emergenza, abbiamo ricordato oggi i Comuni che nel Sud Italia sono di fronte appunto alla gestione di queste centinaia di disperati che sono arrivati in queste ore, abbiamo ricordato la politica assurda dissennata per il quale il prefetto Manzione, ma qualcuno mi ricordo più il nome, insomma che il responsabile nazionale di queste problematiche segna alle regioni le quote di immigrati da gestire senza alcuna organizzazione e concertazione, così dice prendetevi, ma ricordiamo anche quello che è successo per un anno e mezzo, sta ancora succedendo nel Comune di Milano, vicino tra l'altro alla sede del Consiglio regionale a pochi metri, con i profughi siriani abbandonati a se stessi, semplicemente al Comune di Milano, che però è riuscito ad evitare sostanzialmente che Milano si trasformasse in una, come dire, in un campo profughi a cielo aperto con l'aiuto soprattutto delle Onlus. Quel che l'Asla si cura, d'intesa con l'Agenzia regionale dell'emergenza urgenza, è l'ambulanza del 118 nel piazzale davanti alla stazione. Locatelli, direttore generale dell'Asla in Quattalega e Salvignano di Ferro, è tranquillo, se sono stati trovati quattro casi di scabbia vuol dire che il sistema di prevenzione funziona. Casalino. Vabbè, ma qui ripetiamo un po' le cose che abbiamo detto prima, ossia in Consiglio regionale qualcuno ha chiesto comunque la riapertura dell'ambulatorio che c'era al binario 21, abbiamo sentito i medici, il Presidente dell'Ordine dei Medici, che sostanzialmente fa capire che finora hanno comunque operato senza quell'ambulatorio con mezzi di fortuna, e invece la Regione che dice va tutto bene e c'è già il presidio di fronte alla stazione centrale. Io torno a dire che noi in Consiglio regionale abbiamo appoggiato in Movimento 5 Stelle la mozione che chiedeva la riapertura di questo ambulatorio del binario 21, perché credo che anche proprio in relazione al flusso... C'è una cosa da vantarsi su questa cosa che stai dicendo, è appoggiato gente che se ne frega di questa gente, li fa venire e se ne approfitta su questo. Profughi siriani, ma se posso commentare invece quello che diceva prima Cecchetti, io sono assolutamente d'accordo, sono i numeri che lo dicono, solo il 10%, non c'è bisogno di essere d'accordo, l'ho ricordato anch'io quando prima Cecchetti non c'era in inizio trasmissione, ricordiamoci che solo il 10% di coloro, dicono le statistiche che sono arrivati in Italia, hanno ottenuto effettivamente lo status di rifugiato politico, tutti gli altri non ce l'hanno, quindi o se ne sono andati o sono andati in clandestinità. Ma io quando parlo di queste problematiche ricordo spesso una cosa, allora perché il nostro Stato non è in grado, perché di questo dovremmo parlare, non è in grado di applicare le leggi, perché noi le leggi le abbiamo su questi temi e imporrebbero le nostre forze dell'ordine, quando incontrano, e inserito stiamo parlando di fare dei controlli, io ho parlato personalmente con dei clandestini, ma non c'è bisogno di andare a interrogarne uno o due, perché è di opinione comune, di senso comune, non li ferma nessuno, non li prende nessuno, semplicemente perché le forze dell'ordine non hanno i mezzi per farlo, quindi quando incontrano dei clandestini, chiedono i documenti e vedono, si rendono conto che non sono, che sono clandestini, non fanno assolutamente nulla, li lasciano andare sostanzialmente, mentre invece la legge imporrebbe sostanzialmente che dovrebbero essere accompagnate dalla frontiera, ovviamente avendono i mezzi e le risorse, diciamole queste cose, perché siamo tutti bravi a descrivere i problemi che abbiamo tanti clandestini in Italia, che arrivano i flussi, poi però la realtà è un'altra, e cioè che il nostro Stato, in questo caso le forze dell'ordine, non hanno le risorse per fare anche tutte queste cose, ma semplicemente perché i governi negli ultimi vent'anni, di cui credo il Movimento 5 Stelle non abbia assolutamente partecipato, perché non c'era, sono responsabili, l'Italia è sempre stata brava con la sua classe politica a fare delle leggi assurde come la Bossi Fini, perché sono inapplicabili e idiote nelle loro regole, e lo dicono gli imprenditori, a cominciare appunto da chi ha bisogno per esempio di forza lavoro, ma poi il nostro Stato non è messo in grado di attuare quelle leggi, questa è la vera realtà, se noi andiamo, e qui chiudo, ad un paese rivierasco, sul Mediterraneo, come la Spagna, che peraltro non è interessato ai nostri flussi di immigrazione, anche per motivi strettamente geografici, di fronte a un paese che è il Marocco, che è gestito in una maniera completamente diversa, non è stato finora interessato dalla primavera araba, eppure se si parla, io ho parlato di un clandestino in Italia, che sono stati anche in Spagna, non hanno una legge idiota come la Bossi Fini, ma hanno uno Stato che assolutamente applica le proprie leggi, chi è clandestino su quel territorio e ci può rimanere per tre anni anche senza lavoro, viene sbattuto fuori, quindi non parliamo di principi su cui siamo tutti d'accordo, ma incominciamo a capire come mettere il nostro Stato nel condizionato di applicare le proprie leggi. Volevo ripartire dalla polemica sul reato di clandestinità, il reato di clandestinità è stata soltanto una mossa propagandistica dalla Lega, vendendo il fatto, come spesso fa, potremmo parlare anche della legge sulle moschee in Consiglio regionale, che questo sarebbe stato un deterrente per un clandestino per venire in Italia, è evidente che chi ha un minimo di buonsenso può capire che un disperato che arriva in Italia ne può fregare di meno di avere sulla propria fedina pedale, che neanche sa che cos'è, il reato di clandestinità. Il reato di clandestinità introdotto da Maroni e da Lega è servito semplicemente, oltre che alla propria propaganda, a ingolfare le forze dell'ordine e della magistratura che hanno chiesto, hanno supplicato il Parlamento di togliere questo impiccio burocratico. Le nostre forze dell'ordine possono già, potevano già amministrativamente sbattere fuori dal nostro paese un clandestino. Il tema è un altro, più serio della politica, mettiamo in condizione le nostre forze dell'ordine e il nostro Stato di sbattere fuori dal nostro paese i clandestini, il resto è propaganda e chiacchiere inutile. Marisa da Torino, guardi mi ricordo anche il nome, ha detto, lei mi deve spiegare chiedendo a un politico come mai questi famosi 35 euro che danno tanto fastidio, arriva un profugo e gli si mette a disposizione 35 euro, l'Europa non dell'Europa perché ha bisogno, non ha un diretto, non ha una casa. Poi io sono qua a Torino e dice vado fuori, c'è una persona anche disabile che vive in macchina, che è povera, che non ha la casa, che non ha niente e nessuno va da questo cittadino italiano a dirgli scusami, vieni perché ti porto nell'albergo, do che questo albergo ha 35 euro al giorno per te, fin quando non risolvi la tua situazione ce ne occupiamo noi. Allora la signora dice, non è una questione di umanità, è una questione di obiettività, allora politicamente che cosa rispondete? Stiamo dicendo sostanzialmente se questi soldi dovrebbero essere appunto destinati a cittadini italiani che sono in difficoltà, è evidente che politicamente chiunque può sottoscrivere questa dichiarazione, questo concetto, poi però ritorniamo, come dire, è una dichiarazione banale di principio in cui chiunque può aderire, poi in realtà ci sono problemi prima, come ho spiegato, il fatto che ci sono dei flussi di persone che arrivano, che non possono essere lasciate in mezzo al mare, che bisognerebbe agire prima, tutto quello che ho spiegato prima, cioè commentare, ripeto, una dichiarazione di principio banale, su cui poi tantissimi politici fanno tanta di quella propaganda, perché spesso io sento qualcuno che sembra che solo lui non vuole i clandestini nel nostro paese, mentre forse gli altri, non capisco chi, vuole i clandestini nel nostro paese. Forse il problema è un altro, ma no, a me non interessa fare queste problemiche, credo che nessuno... Il problema è che come al solito in Italia si fanno finta, le autorità, sto parlando, lo Stato, le istituzioni, si voltano dall'altra parte, fanno finta di non vedere i problemi, non affrontano i problemi e nei problemi vengono lasciati i cittadini, quindi io ripeto, semplicemente è ovvio fare una dichiarazione di principio così semplice e banale, invece di dare questi soldi agli stranieri, come vogliamo chiamare temporaneamente presenti, questa edizione ufficiale che dà la legge, quelli che vengono accolti nei centri temporanei, come si chiamano, di permanenza, invece di darli a loro bisogna darli ai cittadini italiani. Certo, però oserei anche dire che se mettiamo assieme tutti i soldi che vengono, come si dice, gestiti dallo Stato italiano per questo business, lo ricordo ancora una volta, è un business, evidentemente qualcuno non vuole rinunciare nel nostro sistema politico clientelare a questo business per i propri amici, beh, questi soldi comunque non sarebbero tali da risolvere tutti i problemi dei cittadini italiani senza lavoro o senza una casa, forse è il caso di dirlo. Sempre sul tema immigrazione c'è poco da dire, io riprendo quello che ho detto all'inizio e che comunque ha ripetuto Cecchetti anche poco fa su questo, mi sembra, sulla critica in generale a Renzi, sulle cose che sta facendo a Roma e sulle tantissime cose che non ha fatto in Europa, è quello che ho detto anch'io all'inizio di trasmissione quando ancora Cecchetti non c'era. Nei sei mesi di presidenza dell'Unione Europea, sostanzialmente Renzi non ha portato a casa nessun risultato, poteva portarlo a casa dopo la nostra mozione sul tema immigrazione votata in Parlamento che chiedeva gli impegni precisi del governo, non ha fatto assolutamente nulla, ma non ha fatto assolutamente nulla appunto neanche sul fronte economico, ha chiacchierato e parlato quando era sindaco si lamentava del patto di stabilità interno che strozzava e strozza i sindaci su cui non ha fatto nulla, ha parlato da candidato alla segreteria del PD di un allentamento del patto di stabilità europeo che sostanzialmente non dà spazio ai governi su nulla, allentare questo patto per permettere un po' di investimenti, di sforare sul deficit e permettere investimenti di fare ripartire l'economia. Non ha portato assolutamente nulla, è andato in Europa, si è fatto prendere a schiaffi dalla Merkel e dai potentati e non ha fatto niente.